Esperienza totalmente nuova che punta ad arricchire tutto il mio bagaglio tecnico, tutto il mio bagaglio anche umano perché insomma stare al fianco di mio fratello che ha più anni di esperienza di me con delle ragazze ha super, con una grandissima dedizione al lavoro che appunto sono molte di loro insegnano loro a me come stare in mezzo al campo, come migliorare come allenatore, insomma è un'avventura nuova che punta a migliorarmi sempre di più ogni giorno sia umanamente che tecnicamente Com'è Antonio come coach? Esigente? Esigente, molto esigente, richiede molto anche a me che sono il suo secondo, alle giocatrici è super esigente, è molto attento ai dettagli, cerca però sempre di mantenere quella che io ritengo la cosa più importante un grande spirito di squadra, un'unità di squadra perché nei momenti difficili è quello che ti fa uscire dalle difficoltà a differenza del gesto tecnico diciamo Chiaramente lo spirito di squadra di cui parlava lui è ancora più forte avendo lui al mio fianco siamo in famiglia, tutti molto uniti, molto compatti insieme anche alle ragazze della squadra quindi chiaramente un'esperienza fantastica Ecco, oggi e sabato c'è un appuntamento importantissimo vogliamo ricordarlo, vogliamo rinnovare l'appuntamento per quello che è un secondo evento dopo il successo dello scorso anno? Assolutamente sì, oggi ricorderemo con questo evento sportivo, con un torneo di pallaccanestro due figure che chiaramente per noi sono quanto mai importanti nostro padre e nostro zio che tanto hanno fatto per lo sport avellinese, per la pallaccanestro in particolare erano particolarmente legati a questo sport da giocatore mio zio e successivamente da dirigente e mio padre da medico e poi da dirigente insomma oltre che chiaramente da tifosissimi della scandone rinnoviamo l'invito ovviamente alla popolazione a venire ad assistere a questo torneo di beneficenza che ha lo scopo appunto di unire tanti amici che oggi vedranno affrontarsi gli uni con gli altri ma con l'obiettivo comune della solidarietà Il nostro obiettivo va sicuramente oltre abbiamo appeso le scarpette al chiodo da un punto di vista veramente agonistico da un po' però noi vogliamo fare qualcosa di più, qualcosa che va oltre il campo perché non si deve fermare lì perché come dico spesso è la concretezza che poi diciamo fa davvero la differenza perché uno può parlare, può dire tutte le cose che vuole ma di concreto insomma si fa davvero poco e noi cerchiamo sempre di essere quanto più concreti è possibile sia per la pallaccanestro che appunto anche per la società